primo levi uomo scienziato prigioniero e infine scrittore sì prigioniero e scrittore perché due sono gli elementi fondamentali che caratterizzano la sua vita la prigionia e l'aver deciso di scrivere per me è un ricordo a un tempo lontano e vicinissimo perché è lontano nel tempo ma è vicino per altri motivi il mio mestiere è un altro io sono un chimico ma la mia esistenza è stata segnata da due fatti fondamentali il primo la prigionia ad auschwitz la seconda di aver scritto della mia prigionia ad auschwitz il fatto di averne scritto mi rende continuamente vicino e presente questo fatto perché i miei libri su auschwitz sono stati tradotti in molte lingue vengono ancora oggi pubblicati e letti vengono letti anche nelle scuole anzi la ragione per cui mi trovo oggi a milano io abito dorino mi trovo a milano perché sono stato invitato da una scuola dai ragazzi e bambini di una quarta elementare a parlare del mio libro e della mia esperienza ora questi incontri avvengono sovente io li accetto sempre molto volentieri mi portano davanti ai pubblici più diversi oggi erano stamattina erano era una quarta elementare a bambini di 8 9 anni ma mi trovo davanti ai pubblici diversi come età come livello di cultura come strato sociale e mi danno un'indicazione di come queste cose che per me sono sempre presenti siano ad un tempo vive ancora e remote cioè pochissimi oggi riescono a ricostruire a ricollegare quel filo conduttore che lega le squadre d'azione fasciste degli anni 20 in italia le stragi di torino le stragi di brandimarte di torino con i campi di concentramento in germania e anche in italia perché non sono mancati anche in italia questo non molti lo sanno e il fascismo di oggi altrettanto violento a cui manca soltanto il potere per ridiventare quello che era cioè la consacrazione del privilegio della disuguaglianza non le sembra che in italia il ricordo di auschwitz si sia assopito è probabile che in italia sia meno pesante che non in germania per la ragione vorrei dire geografica o storica che la strage perché si è stata una strage notoriamente sulla scala dei milioni non è vero è avvenuta localmente in germania e non in italia e questo ha concesso alla maggior parte degli italiani di trovarsi un alibi facile cioè queste cose le hanno fatte loro non le abbiamo fatte noi ma le abbiamo cominciate noi il nazismo in germania è stato una metastasi di un tumore che era in italia è un tumore che ha condotto alla morte la germania e l'europa questo vicino alla morte insomma al disastro completo non sono soltanto i 4 milioni e mezzo di auschwitz ma sono i 6 o 7 milioni di vittime ebree e sono i 60 milioni di morti della seconda guerra mondiale che sono il frutto del nazismo e del fascismo questa è una cosa che io personalmente non posso dimenticare per motivi evidenti ma vorrei che anche gli altri dico gli altri tra virgolette insomma tutti quelli che non sono stati in un lager in un capo di concentramento ricordassero le sapessero cioè che il lager auschwitz era la realizzazione del fascismo il fascismo integrato completato aveva quello che in italia mancava cioè il suo coronamento lei ha detto che i tedeschi sono stati protagonisti giustamente e lo ricordano quindi auschwitz più degli italiani lei che va spesso in germania per ragioni di lavoro ne parla come accettano questo il discorso di non manca mai il discorso è quasi standard io vado in germania per ragione di lavoro vado una volta o due all'anno io parlo tedesco l'ho imparato ad auschwitz pochi italiani parlano tedesco soprattutto pochi lo parlano come me cioè io ho imparato il tedesco della caserma dal basso e non dall'alto non sulla grammatica e non sul vocabolario non a scuola e i tedeschi lo percepiscono questo io parlo uno strano tedesco mi chiedono come mai lei dottor levi parla tedesco e io rispondo subito e sempre l'ho imparato ad auschwitz col che il discorso quasi sempre si tronca il mio interlocutore che di solito non conosco non so chi sia è un partner d'affari è un cliente o un fornitore tace tace è molto di cattivo gusto parlare in germania di queste cose è una indelicatezza una scortesia insomma per questo io lo faccio molto volentieri e sempre per vedere le reazioni dall'altra parte qualche volta timidamente il mio interlocutore dice ah oh sì erano tristi cose malauguratamente sono successe qui da noi ma la germania di oggi è diversa di che via non è del tutto fuori luogo ma non mi è mai successo di trovare qualcuno un tedesco che mi dicesse sì e infatti io ero un nazista e non lo sono più oppure sono un nazista e lo sono ancora questo no questo non mi è successo mai come se l'intero passato della germania fosse stato cancellato con un gigantesco colpo di spugna lei pensa che siano ancora possibili queste atrocità oggi come oggi certamente no ma non dubito che i tedeschi e perché solo i tedeschi qualunque altro paese forse che non ci sono dei cambi di concentramento in grecia o ci sono stati in grecia o in algeria o in brasile il cile e in cile ci sono quindi perché anche in italia non ci vorrebbe molto io purtroppo devo dire lo so questo non è che lo pensi lo so so che si possono fare dappertutto possono esistere dove un fascismo non è detto che sia identico a quello un fascismo cioè una nuova un nuovo verbo come quello che amano i nuovi fascisti in italia cioè non siamo tutti uguali non tutti abbiamo gli stessi diritti alcuni hanno diritti altri no dove questo verbo attecchisce alla fine c'è il lager questo io lo so con precisione grazie a tutti